Amici Trebi Meteo, un saluto da Luca Pace, giornata di venerdì che vedrà un generale peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali a causa dell'avvicinamento di questa intensa perturbazione atlantica che porterà rovesci diffusi anche a carattere temporalesco. Ma partiamo dalla nuvolosità attesa sull'Italia, sin dalle prime ore del giorno, nuvolosità diffusa un po' su tutte le regioni del nord, in aumento anche su quelle centrali, specie quelle del versante tirrenico. Al sud invece ancora sole protagonista per gran parte del giorno. Ma concentriamoci ora sulle precipitazioni attese, come detto sin dalla notte temporali anche di forte intensità sulla Liguria, specie quella di Levante, poi in giornata precipitazioni intense su tutte le regioni del nord, in particolar modo Piemonte e Lombardia. Ecco quindi in definitiva la previsione per quanto riguarda l'Italia, come detto tempo in generale peggioramento su tutte le regioni settentrionali, attenzione a fenomeni localmente di forte intensità sulla Liguria ma anche sull'Alto Piemonte e a tratti sulla Lombardia. Peggiore in giornata anche sull'Emilia-Romagna ma anche sulle regioni del medio versante tirrenico. Altrove invece ancora prevalenza di tempo stabile e soleggiato. Per quanto riguarda le temperature queste sono attesi in generale calo al nord, ancora invece piuttosto miti e gradevoli. Al centro-sud per questo aggiornamento è tutto, ulteriori dettagli come sempre scaricando la nostra app gratuita Trebi Meteo.